ragazzi che vi devo dire io lo sapevo era solo questione di tempo mancoso purtroppo ma che stai dicendo? come che stai dicendo? perchè? chi sei? sono la voce della verità e dimmi che mi devi dire scusami? ti devo avvisare di una cosa dimmi la notteremi sulle spine forza che ti sei sbagliato mi sono sbagliato? e su che cosa mi sono sbagliato? tu hai detto che mancoso è un nuovo giocatore del monza ma non è vero oddio rimane a lecce galliani ieri sera l'ha detto non è un loro obiettivo più oh mio dio veramente? oh mio dio grazie voce della verità che bella notizia mamma mia non c'è di che mi raccomandola per la prossima volta farò il bravo farò il bravo non si preoccupi ragazzi finalmente finalmente una bella notizia bentornati sul mio canale sono come sempre l'ex maverick marco mancoso non è un nuovo giocatore del monza la voce della verità mi ha anticipato per fortuna sul purtroppo purtroppo ho detto purtroppo quindi ragazzi galliani come ha detto la voce della verità che ringrazio ha detto ieri sera che mancoso non è più un loro obiettivo bensì si sposteranno su una seconda punta il monza non c'è bisogno di dirlo ha creato una squadra molto forte che punterà sicuramente alla serie a l'anno prossimo c'è quest'anno e quindi galliani ha detto che non hanno bisogno di mancoso sono veramente contento perché è il nostro capitano è vederlo andare via ci sarei rimasto veramente molto male e non solo magari vederlo andare in una diretta rivale per la serie a sarebbe stato un colpo basso di quelli clamorosi invece per fortuna non è così quindi ragazzi vediamo un pochettino se lecce proverà a comprare qualche altro giocatore adesso che manca praticamente una settimana quindi bisogna velocizzare il tutto la verità anche è che il monza voleva uno sconto su mancoso ma corvina ha detto no assolutamente no non ci potete togliere il nostro capitano nei giorni precedenti tutti i tifosi si sono hanno fatto dei video sui social incoraggiando mancoso a rimanere e per fortuna è questo quello che è accaduto ragazzi quindi ci vediamo in un prossimo video settimana prossima ricomincia il campionato quindi ricominceranno finalmente post partita vedrò di fare delle live reaction ovviamente se riesco devo capire un po' come fare e niente ragazzi ci vediamo in un prossimo video e quindi ciao a tutti ragazzi e buona giornata a tutti quanti voi